E cambiamo argomento, nomi importanti del mondo dei motori come Jacques Villeneuve, Olivier Pani e Franck Lagorge oggi a Valbondione presso la nuova pista di ghiaccio gestita da Santos, motori hanno testato potenti bolidi da corsa. Nelle servizio di Lorenzo Norris sentiamo le interviste a Jacques Villeneuve e Olivier Pani. Non, ma buon, potete che ci cambia qualcosa al livello del comportamento, del lavoro dei treni. Grazie. Sì, sono sempre nell'ambiente dei motori. Poi in Montagna c'è sempre un ambiente un po' di festa. Ecco, so che sei stato in un vistorante nella vostra cultura segnala a mangiare. Non hai apprezzato il nostro cibo? Che ho trovato? Eh, buono, per quello che ho spento la scuola a venire a fare la prova in Italia e mi mancava un po' la pasta. Allora, ti mancava la pasta che, insomma, sei stato abbastanza agliotto. Raccontami un po' i tuoi anni quando hai detto a Polaro 1. Come ti stai riferendo e soprattutto come ti stai integrando in questo volo mondo, sempre con i motori un po' particolari. Ah già, dopo Fomono 1 ho fatto bambini, quindi questo mi ha presunto molto tempo. E ho fatto delle gare un po' da Piappuccio in America, in Australia. Ho usato questo tempo per trovare cose differenti e adesso faccio gare sul piazza a questo livello che è molto divertente. Però sicuramente i piani sono di fare del NASCAR in America e questo è il futuro. Certo, questo è il futuro e naturalmente sempre legato al mondo dei motori. Un occhio di riguardo così velocemente. Quanto è cambiato? Ma il campionato l'anno scorso era benissimo. Avevano tanti a fare battaglie, le macchine sembrano difficili da guidare e l'importanza del pilota sembrava maggiore. Questo era vero. Certo. 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 Certo.